Ciao a tutti, sono Margherita Esposito di Giornalisti nell'Erba e adesso andremo ad intervistare Mario Calabresi Volevamo chiedere se secondo lei il giornalismo del futuro può passare per Instagram Diciamo così, passerà anche per Instagram Io non ci credo più, a un certo punto si diceva Ah, il giornalismo del futuro passa tutto per Facebook Il giornalismo del futuro è Twitter No, il giornalismo deve prescindere dalla piattaforma Un tempo il giornalismo era la carta Poi è arrivata la televisione, oddio, il giornalismo che cos'è? La televisione basta, no, c'è la carta del giornalismo C'è la carta, c'è la televisione e c'è la radio C'è Facebook e c'è Twitter Per cui secondo me Instagram potrà essere un modo per raccontare uno dei modi in cui si possono raccontare storie Ma è uno dei tanti supporti E com'è cambiato il ruolo del giornalista negli ultimi anni? Beh, oggi il giornalista, quando io ho iniziato vent'anni fa E vent'anni fa era carta, punto Soprattutto era parola scritta, punto Poi nascevano i siti E oggi il giornalista, come lo siete voi, deve essere multimediale Cioè saper fare un testo scritto Però anche raccontare una cosa attraverso i video Attraverso le fotografie, attraverso le grafiche Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille